Una foto che rimarrà nella storia dell'esplorazione spaziale. Questa immagine è stata scattata dal lander franco-tedesco Mascot, mentre atterra sull'asteroide Ryugu, a più di 300 milioni di chilometri dalla Terra. Mascot è arrivato a destinazione dopo un viaggio durato quasi tre anni a bordo del vettore giapponese Ayabusa 2 dell'Agenzia Spaziale Nipponica. Ha già cominciato a lavorare. Le sue misurazioni e i prelievi potrebbero svelare i segreti della nascita del Sistema Solare, un compito che il lander, pesante 10 kg e grande quanto una scatola da scarpe, dovrà portare a termine in 16 ore circa. Quella, infatti, è la durata massima delle sue batterie. Sull'asteroide resteranno attivi per alcuni mesi, invece, altri due micro-robot giapponesi Minerva, arrivati su Ryugu una decina di giorni prima di Mascot.